Però questa storia, lo dico a chi ci lavora, non è una storia che va soltanto raccontata, è una storia alla quale è bello, lasciatemela dire così, appartenere. Lo so, la parola appartenenza è una parola un po' strana in questo momento. La parola appartenenza quasi mette paura, cosa vuol dire appartenere? Un grande cantante, visto che Carlo ha citato Giovanotti, che anch'io amo tanto, ma che non cito perché ha detto la vertigine, non è paura di cadere ma voglia di volare, ora la paura di cadere, per gli aerei lasciamo stare, parliamo della voglia di volare. No, cito Gamera, che dice l'appartenenza non è lo sforzo più normale stare insieme. L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé.